Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi all'attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle e l'aurora. Israele attende il Signore perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare dignamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccanti, le nostre colpe e le nostre miserie, ma soprattutto portiamo nel cuore la figura sempre presente di Ilaria che ha donato la sua vita e il sacrificio per il bene di ognuno di noi, degli utenti della strada.